Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia. Partiamo subito con gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Traffico che in verità scorre in maniera regolare per il momento su tutta la rete stradale e autostradale. Da segnalare solamente possibili disagi in Fipili a causa di lavori tra l'Astra Signa e Ginestra Fiorentina in entrambe le direzioni. Possibili disagi per lavori anche in A15 tra Pontremoli e Berceto in entrambe le direzioni. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata tra Impruneta, Greve e Inchianti e San Casciano in direzione Siena. Scambio di carreggiata anche sulla statale 1 Aurelia tra Follonica S e Riotorto con chiusura dello svincolo di Follonica Nord in direzione Livorno. Cantieri di Firenze per sollevamento macchinari con autogru via Ricasoli rimarrà chiusa dalle 20 di stasera alle 7 di domani mattina 22 febbraio. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!